Buona ripresa per le entrate delle parrocchie mantovane nel 2021, comprese quelle delle offerte, rispetto al 2020, quando le chiese erano rimaste a lungo chiuse per la pandemia. Non sono però riuscite a tornare ai livelli del 2019. Le entrate ordinarie lo scorso anno sono state di 5.939.000 euro, 647.000 euro in più del 2020, ma quasi 2 milioni in meno del 2019. Le offerte sono cresciute del 20% rispetto al 2020, senza però tornare ai livelli pre-pandemia a testimonianza di come la frequentazione della chiesa dopo il Covid sia rimasta più bassa rispetto a prima. E le entrate d'attività rimangono al di sotto non solo del 2019, ma anche del 2020, a dimostrazione di come lo scorso anno siano state poche quelle organizzate per via sempre dell'emergenza Covid. A dirlo sono i dati del rendiconto economico 2019-2021 della Diocesi di Mantua, presentato stamani al Centro Pastorale Ferrari, da cui emerge come risultato aggregato della gestione delle parrocchie è a segno più di oltre 735.000 euro contro un sostanziale pareggio del 2020. Risultato positivo anche a livello dei singoli vicariati. Un quadro economico solido è quello comunque che emerge a livello complessivo per tutta la Diocesi. Sì, questo è quello che emerge dai rendiconti che abbiamo presentato oggi ed è una solidità che arriva dal passato, di cui anche noi che amministriamo oggi in qualche modo possiamo godere e quindi questa è anche l'occasione per fare memoria di chi ha amministrato la Diocesi prima di noi e in particolare vorrei ricordare Don Augusto San Felici che è mancato ieri a 89 anni e che è stato prima di me economo della Diocesi di Mantua. Ecco, il dato che emerge è un dato di solidità sia della Diocesi che delle parrocchie che è una capacità in questo momento di far fronte a quelli che sono gli impegni e anche le sfide attuali però è una solidità che non permette di stare tranquilli rispetto alle sfide del futuro e a quello che ci aspetta. Quello che abbiamo presentato questa mattina è anche un quadro ad esempio della situazione degli immobili delle parrocchie. Un'analisi che noi stiamo portando avanti come uffici di curia sulle canoniche inutilizzate rivela un fabbisogno di oneri di restauro che supera i 12 milioni di euro quindi è una solidità rispetto all'oggi ma è anche una solidità che non è sufficiente per pensare a quelle che sono le sfide del futuro. Rodelli spiega che si sta facendo un'analisi per valutare cosa effettivamente serva osservirà in futuro del patrimonio immobiliare della diocesi. Quanto risulta eccedente potrebbe essere rimesso in circolazione in alleanza con altri soggetti del territorio per finalità sociali o anche essere alienato. E proprio a proposito di immobile è ben presente poi il problema energetico. La conferenza episcopale italiana ha destinato alle parrocchie una quota dei fondi 8 per 1000 proprio per supportare la spesa energetica che ci aspetta nel prossimo inverno. Come diocesi stiamo anche lavorando attraverso una commissione sul tema delle comunità energetiche rinnovabili come possibilità che anche le nostre parrocchie hanno di collaborare creando legami di comunità con altri soggetti con famiglie, con pubbliche amministrazioni, con imprese per costruire delle comunità energetiche che possano da una parte alleggerire la spesa dell'energia ma anche e soprattutto assumersi in maniera responsabile la transizione ecologica, ambientale, energetica e a tutela del nostro pianeta come ci invita a fare Papa Francesco nella Laudato Si. In occasione della presentazione il Vescovo Marco Busca ha evidenziato come il rendiconto rappresenti un atto importante di trasparenza, di responsabilità da parte di chi riveste ruoli apicali nella diocesi ma anche di corresponsabilità e una grande responsabilità ed oculatezza nella gestione delle proprie risorse da parte della diocesi mantovana è quella evidenziata dall'economista Alessandro Lai docente di economia aziendale all'Università di Verona che per il futuro lancia un messaggio preciso La diocesi nel far vedere questi dati dimostra la propria attenzione verso la sostenibilità della diocesi in quanto istituzione e della società civile Ecco, mi piacerebbe per il futuro che l'insieme dei dati economico-finanziari si montasse facessi una convergenza con quelli di sostenibilità per produrre un unico documento con il quale i fedeli potrebbero essere ancora più appagati